Musica Musica Buonasera a tutti La vostra collaborazione un attimino Perché il corteo si trova già A 150 metri da qui Vi crediamo di spostarvi E di aprire un attimo il barbo centrale Per poter dare la possibilità Ma di tirerà Di arrivare Grazie Ascolta Quando sta arrivando il corteo Scendi un po' giù Ok Ti metti su quel paro Quando scogli arrivi Ok